Musica Ho accolto la notizia di questa Laura d'Onore, ma con grande entusiasmo, perché comunque la ritengo una cosa straordinaria e quindi mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché io non sono mai stato un grande studente e poi perché è stata comunque un'università così prestigiosa. Se posso dedicare questa Laura probabilmente alla mia maestra degli elementari, perché ha sempre avuto una grande fiducia in me, nonostante che ho detto prima, non fossi un grandissimo amante dello studio. Si chiama maestra Bevilacqua e mi ha sempre voluto bene. Quindi credo che ci possa stare questa dedica. Il numero 10 in campo solitamente è quello che fa divertire, solitamente è quello che risolve le partite. Insomma è un numero indossato dai più grandi calciatori del mondo, nella storia del calcio. Quindi è chiaro che poi per me ha rappresentato tutta la mia carriera, quindi sono molto legato a questo numero. Avrei voluto vincere tutta la mia carriera, però devo dire che la cosa più bella, forse più importante fino ad oggi sono stati veramente gli europei, perché comunque in quel momento abbiamo rappresentato una nazione intera e sono stati molto difficili, sicuramente ce li siamo meritati e è indescrivibile la gioia che abbiamo provato quando Donnarumma ha parato il rigore decisivo. Quindi è anche difficile veramente da descrivere, perché è una situazione, insomma, una grande emozione. Non è così semplice costituire un team vincente, perché comunque si ha a che fare con tante persone con caratteristiche diverse, insomma io credo che prima di tutto bisogna conoscere la materia, questo non solo nel calcio ma in generale, quando uno conosce la materia e conosce, insomma, inizia a conoscere le persone e piano piano può riuscire a creare un gruppo più importante, perché credo che alla fine per raggiungere un obiettivo bisogna lavorare su questo, riuscire a far capire a tutto il gruppo, insomma, qual è la direzione giusta da prendere e questo deve essere condiviso. C'è stato questo abbraccio dopo il rigore parato da Donnarumma e insomma, credo che questo poi sia un po' anche, è una risposta, la risposta alla domanda di prima, è la nostra amicizia che ci lega da tantissimi anni e poi noi trent'anni fa lì perdiamo una fine di Coppa dei Campioni, quindi diciamo che essere lì dopo trent'anni insieme, un'altra volta, insomma, la guida della Nazione Italiana è stato qualcosa che, insomma, ci ha portato indietro nel tempo, quando eravamo un po' più giovani e il fatto che comunque abbiamo condiviso con tutti gli italiani questa vittoria. Credo che bisogna sempre farsi trovare i pronti, anche nei momenti in cui sembra molto difficile, perché poi la vita è strana e a volte accadono delle cose inaspettate, quindi se uno non è pronto mai non riesce a prendere al volo l'occasione che gli arriva e soprattutto avere una grande passione per quello che si fa e credo che gli studenti che poi scegliono il corso di scienze motore abbiano una grande passione perché poi, insomma, è questa che ti fa riuscire a raggiungere quello che è il tuo obiettivo quando sei giovane, io credo che la passione smuova le montagne. Il nostro obiettivo ora è quello di qualificarci a Qatar 22, siamo in un gruppo con la Svizzera che comunque è una squadra abbastanza difficile da incontrare, stiamo andando abbastanza bene e i ragazzi sanno che oramai quello che è stato fatto rimarrà nella storia, ma non dico che non conti, però bisogna sempre guardare avanti e porsi nuovi obiettivi pensando che bisogna lavorare ancora di più per raggiungerli, quindi è chiaro che il nostro obiettivo primario è quello di raggiungere la qualificazione prima.